Salve a tutti, in questo video vi presentiamo il nostro corso di preparazione al parto utilizzando la mindfulness e tecniche di autoipnosi. Apprendere la mindfulness e le tecniche di autoipnosi permette di alleviare i divasaggi fisici legati alla gravidanza, facilita il rapporto con il proprio corpo e le proprie emozioni e prepara ad affrontare il momento della nascita in maniera più consapevole. Il corso si svolge in quattro incontri, fatti online o in presenza. È possibile farlo dal settimo mese di gravidanza. Conosciamo meglio le conduttrici del corso. Buongiorno, sono la dottoressa Pellia e mi occupo della prevenzione della depressione post-partum. Salve, sono la dottoressa Riana Calabrese e mi occupo della parte relativa alla mindfulness. La mindfulness è una tecnica di meditazione utile per gestire e alleviare i malesseri sia somatici che emotivi e questo grazie al lavoro che svolge su corpo e respiro. Salve, sono la dottoressa Luigina Pugno e mi occupo di insegnare le tecniche di ipnosi. L'ipnosi è una tecnica che sfrutta le naturali e spontanee risorse presenti nel corpo e nella mente al fine di raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. In questo corso gli obiettivi da raggiungere su cui lavoreremo sono rilassarsi e raggiungere uno stato di benessere emotivo e di tranquillità e poi saper riconoscere quando un disagio emotivo può essere la spia della depressione post-partum. Trovare dentro di sé le risorse, la forza e l'energia per affrontare il parto, rendere il dolore tollerabile e gestibile, ridurre i tempi del travaglio.